eccoci qua sempre nel settore falsi tagli o tagli in generale cosa proponiamo oggi oggi proponiamo il Gary Quellet false card andiamo a vederlo immediatamente il mazzo di carte ovviamente in ordine il Gary Quellet questo qua e il mazzo rimane completamente in ordine come si esegue semplicissimo è semplicemente una serie di swing cut dove il mazzo prelevato si gira faccenato sul tavolo sopra questo ci si metteranno gli altri mazzettini recuperati in swing cut praticamente non stiamo alterando l'ordine delle carte è come se prendessi un intero mazzo lo capovolgessimo faccenato così solo che lo facciamo a piccoli tagli ripetutamente quindi per lo spettatore noi stiamo tagliando ma in realtà non tagliamo assolutamente niente ricomponiamo il mazzo un pezzo alla volta questo era il falso taglio di Gary Quellet ragazzi vedete voi vogliamoci bene ciao 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 ciao